Giorgio Graziano con Valceno Info di Parmense.net ci porta all'interno dell'autodromo di Varano de Melegari per un giro di pista a bordo di alcune favolose auto storiche il tutto è avvenuto con una diretta facebook sulla pagina facebook valceno.info nello scorso fine settimana a bordo delle auto fumettisti e caricaturisti che hanno anche partecipato in precedenza a un incontro con l'ingegner Giampaolo Dallara di cui vi faremo poi vedere l'intervista in un prossimo telegiornale ma godiamoci le immagini di queste meravigliose auto in un autodromo davvero suggestivo rispetto a tanti altri circondato da meravigliose colline come quello di Varano Melegari adesso entri, fermi dove sei la persona che vi raccontiamo tutti quando ci siete tutti e poi facciamo partire ok? Perfetto! Grazie! 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 Grazie!